Musica Eravamo venute per giorni dep, però abbiamo scoperto che c'è dopodomani, quindi siamo venuti a vedere, com'è che si chiama? I codi? Ecco. Noi due siamo qua dalle otto. Siete venuti per? Speriamo in giorni dep. Siete venuti per? Jake. Ok, neanche per. Ok. Da quant'è che siete qui? Io dalle otto più o meno. Dalle dieci mettiamo te al posto. Ok. Ma basterete anche nei prossimi giorni o l'unico obiettivo è Jake? Anche il quarto, cioè io sono il quarto, lei sarà penso con te due. Sì, io penso. Sì, io penso. Vieni! Sì, io penso. Sì, io penso. Sì. Grazie a tutti.